Professore, dato che lei mi ispira a citazioni colte, Max Weber schisse un libro che si chiamava La politica come professione, che si può tradurre in tedesco, mi dicono anche come vocazione. Cos'è per la politica? Professione o vocazione? Beh, la vocazione ci vuole, perché la vita della politica... Però se c'è solo la vocazione e non c'è la professione, prima o poi la barca va a sbattere. Questo è un buon consiglio per tanti politici di oggi.